I cittadini in questa giornata sono molto contenti di questa iniziativa, è un'ottima opportunità per fare uno screening cardiologico. Una quarantina di prenotazioni, il comune di San Biagio di Callalta ha voluto declinare con un'iniziativa concreta la giornata mondiale del cuore che si celebra il 29 settembre. Screening gratuito al centro culturale Scolè accanto al municipio grazie alla compartecipazione tra pubblico e privato. Questo primo appuntamento ha avuto un buonissimo successo da parte della popolazione che ha risposto davvero in massa e speriamo che anche nei prossimi giorni, il 2, il 3, il 5 ottobre in cui in collaborazione con Avis, Aido, Amici del Cuore, la Croce Rossa Italiana ed altre associazioni ci sia la stessa partecipazione perché la prevenzione è fondamentale. Questo è importante per le persone ma è importante anche per divulgare la cultura della prevenzione e consentitemi anche di divulgare la cultura della telemedicina, in questo caso la telecardiologia. Grazie alla telemedicina noi possiamo fare questo perché refertiamo in tempo reale. Tra i cittadini che si sono presentati allo screening anche qualcuno che un elettrocardiogramma non l'aveva mai fatto. C'è chi viene perché ha avuto qualche dubbio o solitamente anche per un controllo, semplicemente per un controllo generale. Come mai qua oggi? Perché prendo l'occasione di questa nuova iniziativa del Comune per salvaguardare la nostra salute dei cittadini e avendo avuto problemi in famiglia di cuore questa è un'ottima occasione per avere una certezza di come sta il mio cuore. Non finisce qui, il 2 ottobre a San Biagio si terrà una serata promossa dalla Croce Rossa sulle manovre salvavita pediatriche, il 5 in piazza Tobagi, una giornata dedicata alla prevenzione a 360 gradi. E termineremo poi con una serata dedicata alla prevenzione dei gesti suicidari grazie al filo di Simo, un'altra tematica purtroppo molto sensibile e sentita al giorno d'oggi. Grazie. 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 Grazie.